Presentati oggi a Pescara i nuovi autobus in dotazione della TUA, l'azienda unica di trasporti abuzzese. Nello specifico si tratta di 20 bus Iveco Crossway Line da 12 metri alimentati da motori Euro 6 che sono immediatamente immessi in esercizio. L'arrivo dei nuovi 20 bus rappresenta la terza tranche di rinnovo per TUA nell'ultimo periodo nell'ottica di un programma di investimenti e di ammodernamento più ampio. L'investimento economico per i 20 nuovi autobus è di circa 4 milioni e 700 mila Euro. Grazie anche a questi mezzi, oltre a offrire un servizio migliore, ci saranno anche dei notevoli risparmi perché nuovi mezzi sono alimentati con motori più efficienti e quindi consumano meno. Naturalmente essendo nuovi avranno bisogno di minore manutenzione e quindi questo fa pronosticare e certificare in bilancio da TUA circa 200 mila Euro annui di minori costi per la nostra azienda. Pareggiare il bilancio è uno degli obiettivi principali che hanno le aziende pubbliche per potersi sostenere ad andare avanti a norma di legge e offrire nello stesso tempo un servizio più moderno e efficiente ai cittadini. È la strada giusta che stiamo imboccando e siamo tutti impegnati perché su questa strada si possa continuare ad andare avanti. E intanto rispetto di un impegno che TUA ha preso nel momento in cui si è insediato questo Consiglio di Amministrazione c'era una flotta vetusta che ha creato anche dei piccoli problemi, molto minori di quelli che in qualche misura sono diversi dalla stampa. Considerate che la TUA sviluppa oltre 4.000 corse al giorno e quelli che sono gli incidenti o le disfunzioni sono misurabili intorno allo 0,03% che è una percentuale assolutamente fisiologica per un'azienda. Nonostante questo c'era la necessità importante di cambiare la flotta perché ha un'età abbastanza sostenuta i nuovi autobus sono naturalmente di ultimissima generazione li abbiamo presi tenendo conto di alcune di quelle che sono le esigenze che sono emerse nel tempo per esempio tutti gli autobus hanno la pedana per disabili per consentire un miglior accesso al trasporto e naturalmente stiamo facendo tutto quanto questo insieme ad altri segnali che abbiamo voluto dare di innovazione come la presentazione dell'app che consente ai cittadini di fare biglietti online e soprattutto con un sistema che ci consentirà nel tempo di aggredire in alcune parti del territorio quelle che sono state delle disfunzioni.